giacomo paga la tua partita persa con la giuventus no no in piedi ma in piedi in piedi tutta quando hai dato 3 minuti allora praticamente per chi vedrà questo video non capisce perché giacomo sta ballando praticamente sta pagando una scommessa fatta perché la juventus la sua juventus ha perso con milano a zero e gli stiamo facendo vedere gangnam style così lui la balla questo video sfumale lascia youtube dai già devi fare come fa lui giacomo dai forza giacomino ora fatti il balletto pronto guarda guarda attenzione guarda come fa lui aspetta che alzo il volume che poi mi dicono che nel video non si sentirà fai giacomo forza hai perso devi pagare pronto giacomino quella la è giacomo frittisi giacomo dai pronto la parte più bella guarda 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 aspetta che cazzo fai Marco aspetta si è fatto play no 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 non è finito fai i play e i ribatti ok vai guarda 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 guard Fai questa parte Giacomo, però dobbiamo farla in bagno penso, sei becchia e guarda. Vai Giacomo! Vai, vai! Tutti insieme! Vai, ancora non è finita! Vai Giacomo! Guarda che qua si è finita! Aspetta che c'è l'ultimo pezzo, aspetta! Aspetta che c'è l'ultimo pezzo! L'ultimo pezzo esce! Fallo, fallo! Guarda, guarda, com'è quello, com'è quello! Questo è il più bello! Giacomo mui i piedi Giacomo! Giacomo, ti è piaciuta questa... No, per niente! Sei fiero della tua Juventus? Sì, sempre e comunque! Sempre e comunque! Dopo questa sconfitta e questa umiliazione! Sempre e comunque! Lo dici un forza milano per quelli che sono guardando! E anche questo sogno! Va bene, fai un saluto! Digli a tutti Gagnam Style! Gagnam Style! Dio capito! Otti!